E' brutto, come facciamo? E' brutto lui, cattivo lui, si? E' brutto Sanzone? Tanto, 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 ma come facciamo? Eh? E non ti faccio dormire? Eh? Sanzone? Va bene, io dovevi sopra, mi lavavo le mani e... No, non manco. Sanzone, c'è? Sì, non c'è nulla cosa di me, non c'è nulla. Vai! Sì, stai santo, mi vedo, non c'è la mia vita, la mia madre! Sì, stai santo, non c'è nulla cosa di me, ma 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 non c'è nulla cosa di me. Posso leggere il libro? Sì. Sì. Ancora piange, stai! E' nulla, come faccio? Mi hai fatto stare fuori! Mi stanno ancora. Come fa Sanzone che piange? Sì, basta! Basta Sanzone? Basta! Sì! Noi. Basta! Vuoi dormire? Ti senti osservato, Sanzò? Ti stiamo a ropprescato? Andiamo? Vabbè Basta così Basta Non è forte Non è forte Ma questo è che oggi abbiamo fatto In palestra È fortissimo Allora, le morebbero Alla sala di salte